DOMINIO Catturiamoci Occupiamo gli obiettivi Siamo in maniera nostra Siamo in maniera Alpha in mano nemica Tiro una granata Lancia una scordetta Il nemico ha bravo Siamo in svantaggio Siamo in maniera Nel nemico liquidato Siamo in maniera Siamo in maniera Siamo in maniera Tiro una granata Grazie a tutti. Aereo spionaggio nemico in arrivo. Rileviamo diversi aerei spia nemici. Aereo spia in attesa. Aereo spia in attesa. Torretta robot nemica rilevata nell'area operativa. Aereo spia in attesa. Aereo spia in attesa. Aereo spia ostile in sorvolo sulla zona. Siamo a metà. Siamo a metà.